Tempi di attesa ridotti per una visita prenotata all'Ausl, un sogno per moltissimi pazienti che spesso, per visite non solo di routine, si trovano a dover aspettare tanti mesi prima dell'agoniato controllo. L'Ausl, unica della Romagna, fa il punto sulla situazione con l'obiettivo di venire incontro ai cittadini e limitare le differenze tra le tre province, Ravenna, Forlicesena e Rimini. Nel 2016 è previsto l'arrivo del CUP e la lista d'attesa unica, anagrafe unica regionale e sanzioni per chi prenota una visita e poi non si presenta. Le tre province hanno alcune differenze. Rimini ha una popolazione più giovane che quindi fa meno ricorso alle prestazioni. Forlice e Cesena hanno dalla loro la presenza di due grandi ospedali. A Ravenna i tempi di attesa per alcune visite sono spesso lunghi. Rimini da questo punto di vista rientrerebbe nella media. Circa 50 giorni per un'attacca addominale, una quarantina per una elettromiografia, un mese circa di attesa per visite oculistiche, ginecologiche, neurologiche ed ortopediche.